È un'iniziativa rivolta a tutte le scuole di ogni ordine grado, ai filmmaker e alle associazioni culturali con l'obiettivo di produrre un videospot di pochi minuti oppure un cortometraggio sulla legalità del cibo. Sono stati circa 50 i lavori pervenuti quest'anno alla non edizione di Corto e Mangiato, opere selezionate poi da 60 studenti dell'Istituto Alberghiero Promotore del Festival insieme all'Associazione Culturale Ambasciatore Territoriale dell'Enogastronomia, Giro Lomoni oltre il Biologico, Montebello e il Comune di Isola del Piano. Quest'anno l'evento ha come il tema il cibo della legalità perché come ha riferito il dirigente scolastico dell'Istituto Santa Marta le nuove generazioni devono sapere che il settore alimentare è infiltrato dagli organizzazioni criminali in tutte le fasi della filiera, dalla produzione al trasporto, dalla distribuzione allo smercio e le vittime sono le persone in termini di salute e denaro. E' nostro obiettivo prioritario formare dei giovani, quindi dei ragazzi e delle ragazze che domani intraprendendo nel settore dell'alimentazione siano in grado di rispettare gli standard di una buona alimentazione. Ripeto, Ippocrate diceva il cibo è la medicina del tuo corpo. E' necessaria quindi una sana alimentazione, questo è un obiettivo primario per una scuola che si basa sulla qualità e sulla trasformazione dei prodotti, consapevolezza maturata da anni anche a Isola del Piano con l'assegnazione del bene confiscato alla criminalità organizzata. Basta leggere il libro che ha scritto Luca Ponzi, Cibo Criminale, per capire che ci sono grosse infiltrazioni mafiose. Ogni italiano ha un convitato di pietra che è la mafia, cioè siamo in quattro, apparecchia per cinque perché il quinto convitato è invisibile ma è la mafia. È un mercato che fa gola, no? Che fa gola e la mafia sicuramente già da tempo ci ha messo le mani. Cibo bio, eco e giusto sono anche le parole chiave della cooperativa Gino Girolomoni. Eco, giusto eccetera ha a che fare con delle leggi che si sono dati nella comunità, le persone per dire le cose devono essere fatte secondo certi criteri, entro certe norme, entro certi limiti. L'opera vincente di Corto e Mangiato realizzata dai privati si aggiudicherà a mille euro mentre il premio per il miglior lavoro delle scuole sarà di 500. Domani pomeriggio alle 16.30 in questa stessa sala la giuria si riunisce preceduta a Don Paolo Gasperini proprio per visionare i 12 film finalisti che sono arrivati un po' da tutta Italia ma soprattutto dal nostro territorio comunale, questo ci fa molto piacere. La giuria stessa sceglierà i due film da premiare e la sera di venerdì 10 aprile all'Istituto Alberghiero di Peso durante la cena di gala verranno premiati i due lavori che hanno conquistato la non edizione di Corto e Mangiato.